Oh, salve i più belli! Immagino che ormai avrete capito che in realtà sono... Stuart Zurgo! Il più astuto supercattivo dell'universo! Siete ferriti, non è vero? Cosa si prova a sapere che sono stato sotto il vostro naso per tutto il tempo? Le invasioni servivano a farci abbandonare la nave. Che cosa ci fai qui, Zurgo? Oh, cercavo solo questa! La chiave di accesso al variatore atmosferico galattico scemo! Oh, sì! L'ho fatta mettere dai nerd della Sala della Conoscenza nella rete di difesa. Così le mie visite presidenziali erano sempre baciate dal sole. Hai speso soldi pubblici per fare di un sistema di difesa un dispositivo meteo? Esatto! E mentre voi riavviavate le torri, io caricavo un virus che mi permettesse di averne il totale controllo! Grazie per aver lavorato per me, perdenti! Ora? Prima che io giri questa chiave gettando il settore nel caos più totale! Che ne dite di un ultimo delizioso scherzetto? Grazie per aver chiamato la Polaris Defense Force. Per emergenze minori o invasioni galattiche, premere il tasto cancelletto. Si prega di lasciare un messaggio. Sì, parla Copernicus L. Quark. Sto usando il mio variatore atmosferico galattico per gettare la galassia nel caos perché sono uno sbruffone narciso e pomposo. E per fermarmi dovrete uccidermi. Punto e virgola aperta parentesi. Passi e chiudo. E comunque... Mi hanno messo una nave. Buon massacro! Oh, ciao perdenti! Mi piace quello che ho fatto alla vostra nave? Mi è bastato sovrascrivere il contro-ESA protocollo per controllare la sua banca data interna. Un gioco da ragazzi! Ho una sorpresa per te! Un po' di easy listening mentre giri per la Phoenix. Non è fatta per farti uscire di testa, non ti preoccupare. Avanti così, cadetto! Quando penso a tutti gli anni che ho passato ad adorarti, mi viene il volta a stomaco! Ho fatto i tuoi allotipi! Ho moderato il forum di Quark! Ho persino scritto una fiesta etrale intitolata Le avventure di Capitano Quark e il Sargente Zurgo! Grazie per la visione! Cadetti, il variatore atmosferico ha trasformato Ebaro in un parco divertimenti a tema artico. Disattiviamo il centro di difesa e facciamolo tornare come prima. Distruggi i rilevatori atmosferici per neutralizzare le perturbazioni. Attenzione! Il calo di temperatura ha attirato dei Grangot nella regione. Grazie per la visione! Il combustore è ora disponibile. Rilevatore distrutto. Rimangono 9 rilevatori. Ottimo! È l'ora di aggiornare le nostre difese. Rilevatore distrutto. Rimangono 8 rilevatori. Questo settore è infestato da tornado di ghiaccio. Mister Zurkon è ora disponibile. Sì! Una nuova arma! Navicella nemica in arrivo. Nemici in arrivo. Ah, il momento peggiore per finire le munizioni. Mister Zurkon! Rilevatore distrutto. Sette rilevatori atmosferici. Mister Zurkon non ha bisogno di Bolt. Lui paga in dolore. Lo swing shot è ora disponibile. Rilevatore distrutto. Sei rilevatori atmosferici. Ciao, stupi alieni! Rilevatore distrutto. Cinque rilevatori atmosferici. Qui ci sono munizioni! Sì! Qui ci sono munizioni! Lo sparasuone è ora disponibile. Hai sbloccato il Criorazo. Mister Zurkon combattere la più forza. Sono a secco! Rilevatore distrutto. Quattro rilevatori atmosferici. Il guerrassondario è ora disponibile. Munizioni prese! Il Piro Blaster è ora disponibile. Tutto qui? Davvero? Per un pelo. Non ci vediamo adesso? Non ci vedete. Bene! Oh, per un pelo! Ah, il momento peggiore per finire le munizioni. Rilevatore distrutto. Tre rilevatori atmosferici. Rilevatore distrutto. Due rilevatori atmosferici. Attenti, tornado di ghiaccio! Oh! 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 Bene! Forse dovremmo procurarci nuove difese. Questo è mio! Navicella nemica, in arrivo. Nemici dalla corsia di destra. Al riparo! Al riparo! Preso! Torretta distrutta. Rilevatore distrutto. Rimane un rilevatore. Sbloccato, il lancia granate. Navicella nemica, in arrivo. Altri nemici si dirigono alla base. Sono a secco! Attenzione gente, nemici a dritta. La base Q-Force è sotto attacco. Torretta distrutta. Generatore distrutto. La base Q-Force è sotto attacco. Rilevatori atmosferici distrutti. Perturbazioni locali neutralizzate. Torretta distrutta. Sbloccato, il discotron. Mestre Zucco, nella prima causa di morte, la mia mia diffusione è tra i 18 e i 55 ati. Mh, ho bisogno di nanotech. Ho bisogno di nanotech. La base Q-Force è al sicuro. Due generatori operativi. Mister Zulcon non ha bisogno di nanotech per sopravvivere. Mister Zulcon si giva di terrore. La Q-Force ha perso un cadetto. Vediamo dove ero rimasto. Bene, altre munizioni. Non mi bisogno di si me. Mr. Zorkon non ha bisogno di Bolt, lui paga il dolore. Iscriviti al nostro canale. Splendido! Un bolt d'oro! 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 Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.